Il muretto con la sua FIET 500X Ha urtato il muretto con la sua FIET 500X un giovane 22enne di strambino, ribaltandola e adagiandola su un fianco in via Aldomoro-Oglianico. È accaduto questa mattina, lunedì 24 settembre, intorno all'8.30. Quando ha urtato un muretto di cemento, l'auto si è di colpo ribaltata su un lato, appoggiata ad un cancello. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Rivarolo Canavese per i rilievi del caso e per accertare la dinamica. Fortunatamente il 22enne è uscito in leso dall'incidente. Fortunatamente il 22enne è uscito in leso dall'incidente. Fortunatamente il 22enne è uscito in leso dall'incidente.